La tassa di soggiorno non va per due motivi fondamentali, anzi direi tre. Uno perché non ha senso mettere una tassa sui consumatori per sostenere un'impresa economica e un settore economico. Il turismo è l'unico settore economico dove si tenta di sostenerlo introducendo una forma di tassazione indiretta che si aggiunge alle altre tasse indirette che il consumatore sostiene, come se tassando il consumo aumentino i consumi. È un ossimolo che non funziona e non sta in piedi e quindi è un errore strategico proprio di base. Il secondo è perché nella nostra destinazione, che è la destinazione del ponente ligure, non è assolutamente vero quello che banalmente si dice che 50 centesimi in più, 50 centesimi in meno, un euro in più al giorno non facciano la differenza. Fanno la differenza e come? Perché noi lavoriamo con clienti fidelizzati che ritornano continuamente nel corso dell'anno, che ritornano anno dopo anno, fa parte prevalentemente del ceto medio sia italiano che europeo, che soffre, che è in difficoltà, in difficoltà in crisi economica reale, non soltanto per modo di dire, e quindi anche 50 centesimi al giorno, anche per pochi giorni, fanno la differenza e come? Lo sanno gli operatori che tutto il giorno stanno al front office e si confrontano con queste dinamiche e con queste tematiche. E infine, un altro elemento, non ha nessun senso dire che nelle altre destinazioni tutto funziona bene e che i turisti pagano volentieri la tassa di soggiorno perché lì, se pagano, pagano carte di servizi, cioè una serie di servizi puntuali, finalizzati alla fruizione del territorio, che consente loro di avere quindi un vantaggio competitivo e di pagare qualche cosa per avere dei servizi, qui offriamo tutta una serie al di fuori della ricettività e dell'ospitalità di disservizi, quindi faremo la tassa del disservizio, non la tassa di servizio o la tassa di scopo. E infine, non ha senso e non ha nessun modo d'essere che paghino sempre le stesse soggetti, cioè che siano sempre le imprese che stanno sul fronte, le imprese che lavorano con regolarità, che lavorano in chiaro, a dover sostenere costi a fronte di un'evasione terrificante che vale cinque volte il movimento ricettivo ufficiale che usufruirebbe ulteriormente di questo vantaggio competitivo potendo dire al cliente, viene da noi, che non solo non paghi tutte le tasse che normalmente dovresti pagare, non paghi neanche la tassa di soggiorno. Il nostro no secco, deciso, non abbiamo nessuna intenzione di subire ulteriormente questo affronto per quello che è uno dei sistemi economici fondamentali e più importanti del Paese, della Liguria, della nostra provincia, vale il 10% del prodotto interno lordo, l'11-12% adesso del tasso di occupazione su questo territorio. Se vogliamo ammazzarlo in questa fase di ripresa che ci provino, noi sicuramente ci metteremo tutto per impedire che accada.